è un gabbiano ma e la mente torna a sognare un'onda un cielo blu aria aria di casa mia aria di libertà quando decidi di partire mi raccomando stai con calma ok bene 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 sabadee krapon pifan e benvenuti in questo nuovo video di intanto in thailandia in questo nuovo video parlerò del fatto che il governo ha promesso che i progetti per quanto riguarda le infrastrutture e i treni elettrici continueranno nonostante tutto e comunque dovrebbero essere dovrebbero terminare entro il 2029 quindi insomma un paio d'anni siamo nel 21 quindi otto anni dovrebbero terminare detto questo volevo invitarvi se ancora non l'aveste fatto iscrivervi al canale a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video inoltre volevo anche invitarvi se volete a lasciare dei like sotto questo video e sempre se volete a condividerlo sui vostri social che magari qualcuno dei vostri amici sui social potrebbe essere interessato detto questo io sono all'interno di muo di mutong scusate il mio camperino e ho messo la truma e adesso qua c'ho la bellezza di 24.6 gradi e si sta si sta bene sta benissimo non si sta bene 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 perché sopra c'è si sta molto bene sotto dal ginocchio in giù insomma comunque ci attrezzeremo anche per questo ragazzi allora ho dimenticato gli occhiali ma non è un problema sistemiamo meglio la telecamera ci siamo sì ci siamo allora il governo ha promesso di continuare i progetti di sviluppo delle infrastrutture e delle ferrovie elettriche a bangkok e nelle province adiacenti coprendo un totale di 559 chilometri con 336 stazioni entro il 2029 quindi diciamo che i progetti nonostante si faccia un lockdown non facciamo lockdown noi ricoveriamo tutti eccetera eccetera ma forse c'è la cura i progetti continuano avanti quindi ci saranno si continuerà a lavorare si continuerà a sviluppare questa rete secondo il vice primo ministro su patana su pana pong su patana po scusate chiedo scusa su patana pong pon mi ciao su patana pong pon mi ciao il governo si è impegnato a completare il piano ventennale di transito rapido di massa per l'area metropolitana di bangkok dal 2010 al 2029 questi lavori previsti quindi in teoria 19 anni il piano generale prevede lo sviluppo di 14 tratte di progetti ferroviari elettrici che servono l'area della grande bangkok questa cosa molto bella che ci siano dei progetti ferroviari elettrici ci metteranno i treni elettrici infanto si dovrebbe abbassare le soglie di inquinamento quindi abbassare le emissioni di co2 e polveri sottili a bangkok sperando che insomma buona parte della popolazione aumentando appunto implementando la rete di transito molti insomma mancocchiani e anche stranieri che visitano bangkok decidono di adoperare le linee ferroviarie elettriche in questa maniera evitando di prendere taxi evitando di prendere macchina evitando di generare inquinamento dalle 14 rotte delle 14 rotte pianificate 9 rotte che coprono 168 km inclusa un'estensione della linea verde da Morchit a Sapanmai Kutkot con sette stazioni è la prima fase della gold line di 1.8 km dalla stazione di Kruntonburi alla stazione Klonsan sono già inattivo e funzionanti le rotte di trasporto di massa programmate per iniziare le operazioni commerciali nel 2021 includono la linea rossa scura di 26 km bansue rangsit e la linea rossa chiara di 15 km bansue ta ling chang quindi abbiamo la linea rossa che si divide in due tratte la linea rossa scura e la linea rossa chiara che però partono tutti da una stazione centrale e si tirano da una parte e dall'altra a novembre a novembre 2020 la mass rapid transit authority la sigla MRTA che gestisce lo sviluppo del trasporto rapido di massa della grande Bangkok ha riferito che la sezione orientale della linea arancione centro culturale tailandese dal centro culturale tailandese a Minburi è completata al 72.7% dovrebbe operare dovrebbe essere operativa insomma nel 2024 in Italia arancione ci siamo ci siamo quasi per quanto riguarda la linea rossa da Kaerai a Minburi è stata completata al 68.5% mentre il suo programma operativo è stato posticipato al 2022 rispetto al precedente programma del 2021 a causa di un ritardo del processo di valutazione dell'impatto ambientale quindi per quanto riguarda la linea rossa che doveva essere attiva adesso quest'anno è stata rinviata all'anno prossimo in quanto ci sono ritardi per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale si 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 la la va bene ottimo ottimo io sempre sul camper adesso c'è lo stufetta sono sempre al calduccio e niente adesso sistemo mi sistema il letto e poi inizio faccio il carico delle acque adesso giorno dopo giorno mi sistemo prima devo mi sono informato sui sui falegnami in zona e ho visto alcuni falegnami ora domani mattina andrò a vedere andrò a chiedere di costruirmi questa questa sorta di doghe perché io non saprei ragazzi io non so dove appoggiarmi me lo posso fare in camper però ho un tavolino piccolo poi devi segare devi devi piantare chiodi devi insomma si si crea un casino in male quindi me lo faccio fare mi costerà non so quanto mi costerà 20 30 euro insomma lo faccio fare e sono a posto poi me lo trasporto invece in spalla fino a qua e finalmente mi monto il letto poi dopo saluti e baci una volta che l'ho reso abitabile che possa abitarci ho il gas tutto a posto bene bene ragazzi bene bene le disavventure continuano ma ce la faremo ce la faremo allora invece per quanto riguarda la linea gialla che corre tra l'area di Latrao e Samrong a Samutsprakhan è completata al 70.5% con corse di prova programmate nell'aprile del 2021 le operazioni commerciali per ottobre del 2021 quindi la linea gialla diciamo che è pronta al 70% comunque nell'aprile del 2021 bella che è pronta inizieranno a testarla e poi farà operazioni commerciali da partire da ottobre del 2021 la MRTA dovrebbe fare un'offerta nel febbraio 2021 per l'estensione di 23.6 km della Purple Line Purple Line ragazzi il neurone è uno solo è mezzo agrippato e ha difficoltà a fare manovra nel cervello l'ho confuso con Purple Rain invece Purple Line la linea rosa la linea viola scusate da Taopun a Rat Burana per un totale di 125 miliardi di baht e il vincitore dell'offerta dovrebbe essere annunciato in agosto o settembre del 2021 con sei anni per la costruzione per la costruzione appunto quindi chi vincerà ad agosto si saprà il nome del vincitore dell'asta ad agosto e avrà sei anni tempo per costruire questa linea Purple è probabile che l'estensione della linea blu da Banquet da Banquet è la linea blu a Puttamonton Sai siamo sicuri che sia Puttamonton Sai sarà Puttamonton Soi 4 vabbè del valore ragazzi io leggo quello che mi scrive il Bangkok Post sempre Teo a pensarci in Thai non hai mai visto in camper dici che funzionerà a aprire un salone di camper io penso che non sarebbe un'idea malvagia ragazzi un salone di camper non sarebbe malvagio intanto i camper i camper in Thailandia li usano però non sono come i nostri i nostri sono c'è la cellula abitativa che appoggia su un furgone nel mio caso è un Ducato Fiat Ducato poi ci sono i Ford Transit poi c'è Mercedes cioè ci sono una marea di altri furgoni ma diciamo i principali in Italia sono il Fiat Ducato e il Ford Transit per quanto riguarda quelli quelli che quelli insomma di una certa età il mio c'ha 30 anni quest'anno c'ha 30 anni quindi perché erano quelli che 30 anni fa andavano molto di moda io penso che potrebbe andare perché in Thailandia adoperano i pick-up hanno i pick-up quindi Toyota Nissan eccetera tutte le marche giapponesi adoperano quelli come camper c'è la mia ragazza che ogni tanto mi condivide i video di camper thailandesi dove c'è questo pick-up che poi magari non sai come scendere dal pick-up perché sono altissimi ci avete presente il pick-up con il cassone dietro è bello alto il cassone non è come il furgoncino che insomma bene o male sono 50 centimetri il pick-up sarà almeno a 90 centimetri la base diciamo del dietro del pick-up sarà almeno a 80-90 centimetri dal suolo quindi bello alto un bel salto e lei mi posta questi video qua c'è sempre più gente che comunque prende camper in Thailandia il problema non è tanto il camper in sé il problema ragazzi siamo noi bisogna vedere per i farang come si applica la legge per il camper quello vendere proprio come i nostri sì 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 ma io il problema è che purtroppo fiat ducato ford transit o mercedes non li trovi in Thailandia cioè c'erano probabilmente se erano rottamati a quest'ora non ci facevano camper quando li importavano quindi li adoperavano per lavorare per cui adesso saranno tutti rottamati però adoperare dei furgoni giapponesi ci avranno dei furgonati Nissan eccetera eccetera si potrebbe fare insomma ti crei una company Thai quindi con un socio a cui è intestato tutto e tu fai il consulente ovviamente il socio insomma bisogna fare attenzione a chi gli si dà in mano i propri averi e quindi comunque affidarsi sempre a professionisti a notai e avvocati insomma in un certo spessore insomma fare sempre attenzione e si potrebbe aprire tranquillamente questo si potrebbe fare officina e rivendita quindi l'officina per le riparazioni la vendita per vendere oppure si potrebbero anche importare anche se già l'anno scorso quando prima ancora era settembre del 2019 settembre-ottobre il governo thailandese ha detto che ha emanato una legge contro l'importazione di autoveicoli e autovetture dall'estero perché pare che sia il principale corridoio della droga in Thailandia perché l'imboscano nelle autovetture però qua c'è da c'è da chiedersi quali autovetture perché cioè che io sappia se tu che so io sono la Fiat e voglio vendere autovetture in Thailandia non è che io mi apro uno stabilimento un concessionario e importo le autovetture in Thailandia le metto in esposizione e le vendo io in Thailandia mi ne apriva una fabbrica capito ovviamente in società con i soci con il 51% Thailandese mi devo aprire questa fabbrica assumere tutti i operai Thailandesi e poi importare i pezzi della Fiat e montarli assemblarli là perché non posso importare autoveicoli integri devo portare solamente i pezzi quindi importo i fari porto le frecce porto i parafanghi porto le ruote porto il semiasse importo tutto e poi io pago gli operai perché me la montino quindi devo formarli e poi li moto quindi già noi noi insomma i farang già importare macchine o automezzi in generale non potevano importarli sani potevano solo importarli a pezzi per dare lavoro a Oscar Trivella ciao Stefano complimenti il tuo camper è scritto ah sì registro storico italiano no ciao Oscar salva di crap no il mio camper no non è scritto ma va bene va bene l'unico vantaggio a parte circolare a parte circolare con euro zero dovunque l'unico vantaggio poi sarebbe la riduzione del bollo a quello che ne so quanto ne so poi sicuramente ci saranno altri vantaggi che io non so quindi circolare nei centri abitati con l'euro zero dove gli altri non possono tu puoi perché è mezzo storico un autoveicolo storico e e poi la riduzione paghi 24 e 50 di bollo io nel mio caso pagherei sui 55 euro perché ha 55 cavalli vapore però se il veicolo storico se lo tieni a casa fermo non paghi niente di bollo se lo metti in moto e vai fuori quindi non lo tieni insomma in una parte privata lo porti in una zona pubblica devi pagare 24 e 50 di bollo ma non lo so ho visto diversi video per quanto riguarda l'iscrizione ne parlava non so se conosci Alessandro di Arcadia on the road ne parlava anche Armando di vivere in camper ma chi lo fa fa insomma si si è buono c'è riduzioni e cose varie puoi andare dove gli altri non possono andare però c'ha anche degli svantaggi adesso non mi ricordo come gli svantaggi ma ho detto vabbè che mi fredde andare dentro la città quando non si può accedere ma sto fuori e sto tranquillo ragazzi si sta da dio si sta da dio dentro ah sta aumentando 25 gradi 25 fra un po' ragazzi in costume e fuori ci saranno un bel po' Teo attenzione a circolare con gli euro zero mi sembra che in Lombardia ce li vieto anche con diesel ah non lo sapevo non penso che vabbè mi dove informare ragazzi mi dove informare però penso che per i camper essendo perché non è veicolo storico ma è veicolo ricreazionale perché è sempre un autoveicolo come la macchina però è segnato come autoveicolo ricreazionale quindi già è leggermente ragazzi vogliamo mettere qualche like su che non fa male se mettiamo dei like non muore nessuno non è mai morto nessuno per troppi like ragazzi sto scherzando fate un po' come fare allora quindi questo mi informo per quanto riguarda il divieto per il diesel euro zero oh la meccanica salva di cap micchi sapai di mai bene finisco un attimo qua il discorso del quindi scusate sto digerendo è probabile che l'estensione della linea blu da bancaire appena ok questo già l'ho letto secondo secondo una fonte delle ferrovie dello stato della Thailandia che ha richiesto l'anonimato quindi diciamo che una talpa all'interno degli uffici anche il piano di gara per l'estensione della linea rossa che ha già ottenuto l'approvazione del governo all'inizio del 2019 dovrebbe essere posticipato perché il ministero dei trasporti ha varato una politica per consolidare i costi di costruzione dei progetti di ampliamento con debiti esistenti delle sezioni Bangsue Ranksit e Bangsue Talling Chan della Redline beh quindi insomma problemi e cose varie o no come ve l'ha cancellato subid subid ok l'importante è che vada sempre bene ragazzi l'importante è che vada bene non è importante se se ogni tanto pioggi oggi è stata una giornata io mi aspettavo di arrivare trovare Moontong bello caldo bello come in genere quando c'è il sole esco di casa e invece c'era tutto annuvolato poi per fortuna un po' il sole è uscito che mi ha ricaricato un po' le batterie però è questo questo qua quindi ah ok 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 mickey me perai me perai quindi devo vedere se per quanto riguarda i camper che insomma i camper storici che poi alla fine sono veicoli storici anche se non sono registrati comunque sono datati se anche per loro va bene insomma c'è il divieto o meno insomma io sto adoperando un po' perché ci sto facendo ogni tanto qualche mezz'oretta di giro per ripeto devo abituarmi una cosa già che mi viene difficile è che io mi parto con la mano destra per infilare la chiave e mi rendo conto che al posto della serratura c'è il cambio quindi passo la chiave dall'altra parte e cerco di metterla in moto dopo di che il cambio che è nello sterzo è semplicissimo non è difficile solo che io trovo delle piccole difficoltà a cercare di a fare mente locale capito perché io sono abituato vado in automatico guidare fondamentalmente come andare in bicicletta una volta che l'ho imparato non toscolo di più l'unica differenza e quindi queste piccole questi piccoli dettagli è il fatto che ovviamente un camper non è una macchina quindi senti lo senti che insomma è qualcosa di abbastanza grosso è un po' impegnativo più grosso di una macchina quindi devi prendere l'occhio agli angoli devi considerare le misure vabbè ho fatto questo diciamo è molto più semplice comunque portare un camper che portare una macchina in Thailandia molto più semplice portare un camper in Italia che non portare una macchina in Thailandia perché non so se avete mai provato a guidare in Thailandia almeno le prime volte io ho guidato solamente una volta con la macchina poi andavo di motocicletta e praticamente in Thailandia cioè ti giri e ti ritrovi nell'altra corsia perché tu sei abituato a fare la curva in un modo da una parte dall'altra e quindi avendo la corsia invertita viene difficile anche se sei seduto dall'altra parte Teo si informati perché in Lombardia c'è problema di inquinamento e veicoli inquinanti vecchio tipo euro 0, 1, 2 benzina e diesel 0, 1, 2 allora quindi benzina euro 0, 0, 1 euro 2 diesel anche fino al 3 puoi chiamare i vigili del tuo paese sì 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 li chiamo e mi informo mi informo per sapere grazie grazie almeno così mi porta avanti oh e poi al limite tanto già ci ho litigato con litigato insomma ho avuto una mezza discussione con il comune perché l'ho chiamato per sapere appunto se Saronno è un paese camper friendly perché comunque camper ce ne sono molti più di quelli che io mi ricordavo che ci fossero a Siracusa e quindi la meccanica in Tai bisogna avere mille occhi quando si guida soprattutto si spuntano tre parti tagliano perché non è il concetto chi ha la precedenza o meno ti sei fermato stai rallentando passo io anche se non ha la precedenza questo stavo dicendo avevo chiamato il comune per poi non frenano e quindi è facile essere tamponato sì 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 no io ho paura di guidare in Thailandia ve lo dico ragazzi sappiatelo adesso lo sapete mi spaventa io guidavo col motorino con lo scooter uno scooter 125 e guidavo piano guidavo pianissimo che la mia ragazza mi fermavo sempre quando c'era da fermarsi che la mia ragazza mi riproverava perché ti sei fermato sulle stisce perché ci sono i pedoni e che vuol dire che ci sono i pedoni e se ci sono i pedoni facciamogli attraversare no? comunque modi e usanze la mia ex la mia ex ragazza quella di dieci anni fa Oscar anche quando va a piedi i pedoni non hanno la precedenza no la precedenza c'è chi non si ferma in Thailandia o sei a piedi o sei in macchina o sei in scooter se non ti fermi ti prendi la precedenza il primo che sei se l'è in carogna come si dice alle mie parti il primo che si spaventa e si ferma perde la precedenza quindi poi pazienza se tu sei a piedi e ti butti nel traffico se qualcuno si ferma bene se no ti arrotano e poi tu ovviamente sei il più debole cioè tu un essere umano contro nello scontro con una macchina è quello che ci rimette e quindi veramente ragazzi ci sono punti per esempio per arrivare al mio ex ristorante per attraversare se facevi il giro lungo ci arrivavi tranquillamente senza problemi per arrivare al mio ristorante tagliando quindi camminavi il marciapiede di fronte e attraversavi potevi stare anche venti minuti mezz'ora ad aspettare di attraversare non si fermava nessuno hanno messo il semaforo 5 metri più avanti lo stesso non si fermava nessuno proprio una cosa della serie perché mi si spunta il rosso ma perché mi devo fermare ma perché ma per fare passare quelli a piedi ma stiamo scherzando una cosa una cosa allucinante ragazzi una cosa allucinante quindi stavo dicendo ho chiamato il comune qua di Saronno e ho chiesto per quanto riguarda la residenza fittizia perché volevo prendere la residenza voglio voglio prendere la residenza fittizia in questa maniera posso lasciare la casa quindi 430 euro di affitto e con 430 euro di soli affitto in camper ci vivo ci vivo bene sì sì le hanno messe il fatto che non sanno a cosa servono cioè le hanno messe perché hanno visto che il resto del mondo ce l'ha il problema è che non sanno a cosa ragazzi molta gente guida senza patente in Thailandia gli serve la macchina per andare a lavorare per portare che so le bombole le bombole che so al parente che vende street food e quindi gli serve la macchina prendono la macchina e guidano sono senza patente senza niente se li fermano la multa è di non so 300-400 baht non so adesso senza patente senza casco una stupidata io mi fermarono a me però sto parlando di 10 anni fa 12 anni fa pagai 200 baht eravamo in due senza casco sullo scooter io sono andato il giorno dopo sempre con lo scooter ecco mi hanno lasciato andare io continuavo a camminare senza casco poi ho comprato il casco ma ragazzi non è che ero senza casco perché ero senza casco perché non sapevo io ho chiesto il casco quando mi porta nessuno non sapevo che per legge bisognava portarlo in Italia quando ero ragazzo io i maggiorenni non portavano il casco stiamo parlando fino al 2000 no che 2000 magari fino al 1990 mi pare no sì nel 1990 non si portava il casco poi dopo no 1989 non si portava il casco poi dopo hanno messo il casco e quindi ho pensato beh qua sicuramente non ci sarà bisogno di casco poi ho comprato lo scooter e la targa non me l'hanno data subito me l'hanno data dopo me l'hanno data dopo qualche mese mi è arrivata insomma compri macchina la targa non te la danno subito aspetti aspettavi non so se adesso le cose si sono cambiate ragazzi cioè tu camminavi senza targa e senza niente quindi l'assicurazione non era obbligatoria visto queste differenze io pensavo che quando mi hanno detto che non c'era bisogno del casco io ci ho creduto io sono sano sano ragazzi sono sano vabbè pazienza comunque stavo dicendo ho chiamato ho chiesto dunque per quanto riguarda la residenza fittizia ha detto ah si deve passare dai servizi di assistenza sociale dall'assistenza sociale come i barboni ho detto no guardi pensavo naturalmente si è vero che ho perso il lavoro ma ancora un po' di soldi in banca ce l'ho certo non grazie alla mia ditta la mia ex ditta ho ancora un po' di soldi ho detto non vado come i barboni voglio la residenza fittizia non mi sto presentando come senza tetto ma mi sto presentando senza fissa dimora sono due due categorie di persone che possono avere la residenza fittizia i barboni quindi senza senza tetto sono i barboni che non hanno soldi non hanno lavoro non hanno di che vivere devo andare alla caritas gente che è messa male e quindi deve seguire assistenza sociale fare un percorso accertamenti vedere se non ha soldi perché giustamente se vai a mangiare alla caritas stai togliendo un pasto a qualcuno che potrebbe averne più bisogno unità e quindi fanno accertamenti per vedere se effettivamente sei povero o meno dopo un percorso di assistenza sociale ti danno la residenza fittizia perché uno che non ha a casa finisce per strada a chiedere l'emosina comunque lo Stato essendo sempre cittadino italiano insomma nel momento in cui perdi la residenza hai perso assistenza sanitaria hai perso i diritti politici quindi non puoi andare a votare hai perso il diritto se ti fanno causa hai perso il diritto di essere difeso in tribunale perdi una serie di diritti che la cittadinanza ti dà e quindi ciao Giuseppe ciao salva di crap e quindi io chiedevo perché io la voglio quindi abbiamo detto senza tetto e senza fissa dimora senza fissa dimora sono tutti gli altri che per motivo X non hanno una fissa dimora per esempio io vedevo su YouTube c'erano dei video con Enrico Brignano con la O che faceva interviste lui è amico della famiglia Laika e ovviamente oltre a sponsorizzare il marchio Laika faceva interviste dicendo che per lui il camper è fondamentale perché essendo artista lui passa più tempo sul camper che non a casa a Roma perché va a fare tournée va a fare spettacoli a destra e a sinistra e ad opera il camper quindi è molto più passa più tempo sul camper perché ovviamente lui è senza fissa dimora lui magari no lui avendo la residenza a Roma cioè avendo casa a Roma però ci sono molti artisti che sono senza fissa dimora oppure i circensi le persone che lavorano nel circhio nel circo nel circo vivono hanno una residenza fittizia adesso anche le persone di una certa etnia che stanno anche loro in camper in roulotte hanno avuto avanti la residenza fittizia il governo italiano gli dà proprio perché sono stanzianti nel territorio italiano sono spostati da paesi dell'est e sono venuti con camper qua in Italia dopo un po' hanno acquisito il governo italiano gli dà senza tante storie la cittadinanza come siamo ospitali solo con quelli che scappano da problemi non siamo molto ospitali comunque l'importante è che si capisca questo concetto qui detto no io sono senza fissa dimora non senza tetto perché con i soldi che ho insomma in banca un paio d'anni dovrei stare tranquillo anche senza lavorare cioè potrei pagarmi l'affitto di un appartamento per un paio d'anni e mangiare e pagarmi le bollette per un paio d'anni cioè non c'ho tanti soldi ma ci potrei vivere naturalmente se mi trasferisco in camper questi due anni si moltiplicano per almeno altri due quindi minimo quattro anni e dice no il passaggio è questo quando ho cercato di farle capire ci sono delle leggi già stabilite no perché poi qua non c'è dove fanno carico e scarico delle acque ma qua a Sarono c'è i bambini giocano si stanno portando la macchina qua a Sarono c'è ci sono due posti dove fai carico e scarico delle acque sia quelle grigie che quelle nere e fai la ricarica delle acque in un posto ti oh sabadikap tirak suae sabadimai tirak samsib natipon putkun ok kotok kotok tirak like ok ci sono quindi due posti dove fai il carico e scarico delle acque e c'è sempre puoi fare appunto il carico delle acque in un posto è gratis e in un altro posto paghi mi pare 20 centesimi 20 centesimi al litro non mi ricordo quanto paghi insomma ci sta insomma ti compri ti prendi l'acqua a pagamento insomma la paghi comunque c'è quindi già no non c'è non volete gente che vive sui camper a Sarono questo devi dire perché può essere che io conosco la legge meglio di te tu che lavori e quindi sicuramente ti verranno persone che vogliono una residenza fittizia e non sai che ci sono due tipi di residenza fittizia o hai fatto solo la residenza fittizia per i senza tetto e quindi non hai idea che esista anche quella per senza fissa dimora oppure non lo so non lo so ragazzi comunque fatto sta che io ci sono rimasto malissimo anche perché poi quando ho visto che io le rispondevo e le paravo ogni colpo si è incazzata era una donna si è incazzata io qua sono davanti al pubblico questa trefalata sta diventando troppo lunga mi scusi mi scusi ma lei dice cazzate e se lei ignorante quanto prende di stipendio per fare sto lavoro vai minca ragazzi se rinasco voglio fare il raccomandato se rinasco voglio fare il raccomandato insomma comunque comunque bene 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 ragazzi per per questa live penso sia tutto ma anche se non ci avete altre domande per quanto riguarda Thailandia o camper perché io ne so meno di voi dei camper quindi se mi date voi a me qualche informazione sarebbe cosa buona e giusta volevo invitarvi se ancora non lo aveste fatto iscrivervi al canale cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video e volevo anche invitarvi se volete a lasciare dei like ragazzi importante lasciare like sotto il video Giuseppe dice vieni in Toscana ma volentieri Giuseppe volentieri appena sbloccano qua io sono già col piede sull'acceleratore appena sbloccano parto anche mia sorella diceva ma sei al nord ma qua c'è freddo ho detto Daniela ma guarda che io non è che ho preso il camper per restare qua al nord io l'inverno se me lo passo se me lo passo in Italia me lo passo giù in Sicilia me lo passo a casa e mica me lo passo qua Giuseppe sempre Giuseppe i camperisti sono benvoluti a Marina di Pisa Marina di Pisa ci sono stato ci sono stato tanti e tanti anni fa è bella bella sì devo chiedere ragazzi intanto devo fare una serie di telefonate ai vari comuni per sapere dove è possibile prendere la residenza fittizia e poi appena sbloccano qua intanto ho sistemato già sono pronto per vivere in camper saluto ringrazio perché comunque è un posto stupendo Saronno a me piace tantissimo però è piccolo ha determinate regole e non si deve non si può svicolare anche se la legge dice altro io qua a casa mia siamo abituati così anche se la legge permette ai camperisti di prendere la residenza in camper noi non li vogliamo quindi c'è una sorta di brigadum non so se avete mai visto brigadum se qualcuno di voi conosce brigadum brigadum scriva sotto nei commenti se lo concedo o nella chat comunque detto questo ragazzi io vi voglio un bene dell'anima ricordatevi di iscrivervi mi raccomando ricordatevi di lasciare like ricordatevi se volete anche di condividere questo video sui vostri social e noi ci vediamo dopo perché dopo alle 7 pubblicherò un altro video sulla Thailandia sempre sull'articolo della Thailandia comunque penso ragazzi di cambiare un po' l'ordine delle pubblicazioni forse il video della il video sul camper lo pubblico dopo cioè prima pubblico un video sulla Thailandia poi prima di pranzo pubblico un video sul camper e poi alle 4 faccio la live sempre sulla Thailandia e poi perché volevo inserire anche un altro video per quanto riguarda alcuni come insomma penso di fare alcune piccole entrate per vivere in camper senza lavorare senza lavorare ragazzi senza lavorare i soldi non entrano però se lavori per te stesso magari anche meglio fai qualcosa per te questo sarebbe la cosa di anni detto questo ragazzi vi voglio bene vi abbraccio a distanza naturalmente perché c'è il covid e ci vediamo dopo ci vediamo dopo ciao ciao ragazzi buona serata